Signor Presidente della Corte d'Appello, signor Sindaco, io sono davvero molto grata di poter esprimere con un tributo di gratitudine questo riconoscimento a Sandro Criscuolo per quello che personalmente ho ricevuto da lui e per quello che, come abbiamo sentito, ha dato alla magistratura. Per questo quando il Procuratore Generale e il Procuratore della Repubblica ormai qualche mese fa mi hanno invitata per questo evento non ho avuto esitazioni, anzi l'ho trovata una sorpresa meravigliosa per tutti noi che non abbiamo potuto partecipare di persona al suo congedo. Essere qui oggi a rendergli onore è davvero è davvero un privilegio. Sandro Criscuolo è davvero un protagonista dell'intera esperienza giudiziaria italiana, come giustamente recita la motivazione di questo gesto reso dall'amministrazione comunale. Il Presidente Criscuolo è stato tutto, ha attraversato l'esperienza giudiziaria in molteplici sfaccettature, lo abbiamo già sentito. Un protagonista e un modello, un modello per tanti giudici, per tanti giovani che guarderanno a questo nome come a un faro di una possibilità di un percorso da seguire. La sua è stata un'esperienza ricchissima e rara, ma io vorrei qui dire solo qualche parola, come del resto ciascuno di noi ha fatto, da un'angolatura personale, perché, appunto, anche io l'ho incontrato e ho avuto modo di condividere alcuni anni con lui alla Corte Costituzionale, anni importantissimi nel mio percorso. C'è un aspetto che vorrei subito sottolineare che riecheggia le parole che adesso abbiamo ascoltato dalla figlia. Sandro Criscuolo è stato eletto alla Corte Costituzionale dalla Corte di Cassazione ed è uno di quei rarissimi casi, non so se l'unico, ma certo il primo a quel tempo, in cui fu eletto al primo turno, un consenso unanime. Qual era il segreto della sua personalità? Cosa c'è dietro una carriera così fulgida? Abbiamo sentito componente del Consiglio Superiore della Magistratura, Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, Cassazione, moltissime esperienze giudiziarie. Sicuramente c'è il grande giurista, l'insigne giurista della grande scuola napoletana e si vedeva, si vedeva in tutto il lavoro che abbiamo potuto condividere. Ma come abbiamo sentito anche dalle parole di chi mi ha preceduto, non meno decisive sono le sue virtù, le virtù dell'uomo capace di diventare un modello e permettetemi un maestro. Ho dei ricordi molto nitidi degli anni che abbiamo trascorso insieme, anche perché in Camera di Consiglio eravamo seduti di fronte uno all'altro e io avevo modo di osservarlo, di osservarlo nel suo ascoltare, nel suo intervenire, con interventi sempre misurati ma sempre incisivi. Abbiamo anche condiviso l'istruttoria di alcune cause particolarmente importanti e particolarmente impegnative, cosa che non era comune. E in quei momenti in particolare, quando proprio abbiamo lavorato fianco a fianco, mi sono accorta di una dote rara. Era un uomo che sapeva cedere il passo. Non solo non amava i protagonismi, non amava la ribalta, ma di cuore, autenticamente, naturalmente, volentieri, cedeva il passo ad altri, con i suoi modi sempre eleganti, sempre raffinati, ispirati forse proprio da quella naturale umiltà, da quella naturale nobile umiltà che lo caratterizzava. È già stato ricordato che lui ebbe nei miei confronti un gesto molto generoso quando mi volle al suo fianco alla Corte Costituzionale. Per la Corte Costituzionale, quello fu una scelta quasi eversiva, non era nella tradizione della Corte, anche perché io ero arrivata da poco e appartenevo a una generazione diversa, anche a una formazione diversa, venivo dall'Accademia, anche le origini geografiche diverse, ma per me fu un vero privilegio e mai mi fece sentire la distanza in nessun modo, il rapporto con lui era facile, naturale, forse perché Sandro Criscuolo aveva un animo davvero mite, quante volte gli ho sentito ripetere non mi piace comandare, anche quando presiedeva la Corte qualche comando lo doveva pure impartire, ma la sua era un'autorità che si faceva ascoltare senza mai imporsi. Era naturalmente inclusivo e io lo vedevo spesso alla Corte circondato oltre che dai suoi familiari, dalla moglie, ma sempre dai suoi assistenti e suoi collaboratori che mi sembravano quasi un po' la prosecuzione naturale della sua famiglia. c'è un altro aspetto che mi piace sottolineare ed era proprio questa capacità di afferzionarsi ai più giovani, a chi collaborava con lui, di credere nelle persone che aveva a fianco e io credo che da qui forse gli veniva quella grande apertura mentale, quella grande modernità di pensiero che lo caratterizzava. Un uomo profondamente radicato nella tradizione del giurista napoletano, ma anche capace di gesti, di decisioni, di prese di posizione del tutto moderne, del tutto inaspettate. Ecco, questa sua capacità di guardare oltre, di guardare le giovani generazioni, di saperle valorizzare, di saperle fare crescere, di vedere che la storia cambia, è una dote che ha un grandissimo valore ai miei occhi e ha un grandissimo valore per il ruolo che lui ha svolto come custode della Costituzione, come componente autorevole del garante della Costituzione, perché la Costituzione è questo ponte fra le generazioni. Ci è stata consegnata dalle generazioni che ci hanno preceduto ed è destinata a durare nel tempo per orientare la società anche di chi verrà dopo di noi. Dedicare questo palazzo di giustizia, uno dei più importanti di tutta Italia, non uno qualsiasi, a Sandro Quiscuolo e anche richiamare i valori della Costituzione, la cui vitalità è affidata sempre alle giovani generazioni, che sono chiamate a farla vivere, a metterci dentro la coscienza civica, come ebbe a dire Piero Calamandrei in un celebre discorso agli studenti di Milano nel 1955. Decidere di intitolare il Palazzo di Giustizia di Napoli al Presidente Merito della Corte Costituzionale, Alessandro Criscuolo, a chi è stato tutela e garante della Carta fondativa della nostra Repubblica, significa anche continuare a trasferire questo spirito della Costituzione nell'incontro tra le generazioni. Grazie davvero.